La candidata sindaca della coalizione progressista a Campobasso, Maria Luisa Forte, commenta il rapporto annuale Istat 2024 e rilancia le proposte programmatiche sulle politiche sociali come risposta ai dati negativi rilevati. Nonostante la crescita dell'occupazione, infatti 4,2 milioni di potenziali lavoratori a livello nazionale restano inutilizzati e sono soprattutto donne e giovani residenti nel mezzogiorno. Due giovani su tre anche in Molise vivono con i genitori, gli under 34 restano a casa perché la disoccupazione è alta e la precarietà occupazionale e salariale scoraggia la ricerca di una vita autonoma. A loro sono riservati la metà dei contratti a tempo determinato e buona parte dei part-time involontari. Non è un caso, annuncia Maria Luisa Forte, che nel nostro programma abbiamo scelto di inserire il salario minimo per tutte le operatrici e per tutti gli operatori che lavorano per lo svolgimento e l'esecuzione di servizi dati in appalto al Comune. Lavoratrici e lavoratori di ogni età non possono scendere sotto i 9 euro l'ordi l'ora. La riattivazione dei patti sociali, aggiunge la candidata sindaca Maria Luisa Forte, è un altro strumento che ci consentirà di non lasciare indietro nessuno. Le persone e le famiglie devono essere supportate economicamente in cambio di un impegno sociale o civico per la città. Le persone e le famiglie devono essere supportate economicamente in cambio di un impegno sociale o civico per la città.